Ciao a tutti, io sono Manuel e oggi prepariamo un primo piatto a base di pesce tanto buono quanto semplice Cominciamo! Tagliare i miei calamari a rondelle piccole, circa 1,5 cm I ciuffetti di questi calamari sono piccoli, se dovessi trovarne alcuni più grossi, consiglio di tagliarli a metà Padella calda, verso un giro d'olio Insaporire con uno spicchietto d'aglio e peperoncino fresco tritato Aggiungere i calamari, teniamo la temperatura bella alta della padella, li facciamo tostare per bene Senti che sound! Prima di sfumare con vino bianco, state attenti che l'acqua sul fondo della padella, che viene rilasciata dai calamari, sia quasi scomparsa È arrivato il momento di sfumare con vino bianco Lascio evaporare l'odore di alcol e posso aggiungere i pomodorini, ciliegini che ho tagliato a metà Passata di pomodoro, aggiustiamo di sale Abbasso la fiamma e lascio cuocere circa 5-6 minuti, perché i nostri calamari erano proprio piccolini Poi regolatevi in base alla pezzatura dei vostri, quindi magari ci vorranno 4-5 minuti in più Acqua bollente salata, è arrivato il momento di lessare i nostri paccheri Ho lessato i paccheri per circa 8-9 minuti, solitamente devono cuocere il doppio Perché? Perché finisco di cuocerli direttamente in padella risottandoli Quindi, proprio come con un risotto, mi aiuto con acqua di cottura e tengo i paccheri sempre belli idratati Ok, paccheri pronti Immancabile prezzemolino fresco Vediamo una bella saltata Stando attenti alla camicia Le possiamo impiattare Ancora un po' di prezzemolino e un giro d'olio E adesso assaggiamo Spaziale, pacchero bello al dente Palamare piccantino, buonissima!